Si è compiuto sabato 10 marzo, all'Associazione Amici della Musica Giovanni Paesiello di Lucera, il terzo appuntamento in programma nella 29esima stagione concertistica. E' partito infatti il Festival Donna di Violino Liliana Rossi, violinista di Ascoli Satriano scomparsa prematuramente nel 1956 e che gli Amici della Musica commemorano in ricordo delle sue grandi doti musicali e del suo impegno sociale. L'appuntamento ha visto protagonisti un duo composto dalla violinista cino-americana Rachel Wong accompagnata dal pianista sudafricano Joan Boz. La Musica Giovanni Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.